Ciao a tutti! Oggi prepareremo i tortini di spinaci con crema al formaggio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per i tortini spinaci, cavolfiore a pezzetti, acqua, formaggio fresco spalmabile tipo Philadelphia, parmigiano grattugiato, uova, sale, per la crema di formaggio, latte, parmigiano grattugiato, pepe, asiago dagli atadadini e burro. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e il sale. Posizionare il cestello con il cavolfiore, chiudere il coperchio, posizionare il varoma con gli spinaci, chiudere con il coperchio ed azionare il bimbi per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Le verdure sono cotte. togliere il cestello e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, mettere adesso gli spinaci, il cavolfiore, il formaggio spalmabile tipo Philadelphia, il parmigiano e le uova. ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 4. Versare il composto in pirottini per muffin ben imburrati. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti circa. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, nel frattempo preparare la crema al formaggio. Mettere nel boccale il latte ed azionare il bimbi per 3 minuti, 80 gradi, velocità 2. aggiungere il burro, il pepe, il parmigiano e l'asiago. Ed azionare il bimbi per 8 minuti, 80 gradi, velocità 4. La crema al formaggio è pronta? Mettere da parte. I tortini sono pronti, sformare e servire il ronando con la crema di formaggio. Tortini di spinaci con crema al formaggio. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!